Allora, chiediamo che venga a questa ordine del giorno come secondo capo il terzo, le commissioni, e che venga criticato il punto tre, chiedendo che venga esaminato la prima commissione, nel frattempo costituita sul vecchio regolamento, il regolamento secondo le commissioni che abbiamo già fatto. Mi suggerisco, mi voglio fare questione su le partenze del titolo del capo numero due, e andiamo a direzione del capo numero tre. Perchè, perchè chiaramente, con il mio vecchio, c'è questo punto. Allora, riporto, beh, allora, vengono i campi che venga costa l'ordine del giorno come secondo punto, le commissioni, nei punti che vengono le commissioni, e venga lì di lato, il regolamento, la proposta lì, com'icca del regolamento. Allora, sulla proposta, quindi, allora, ci sono vari interventi, allora qui, vediamo su una proposta di interventi, e tra le successe viene interventi, e si fa bene il senso di te, per il regolamento, qui c'è una proposta che viene da proprio uno dei dati, che è quello di invertire lo che è del giorno, il capo numero due, e il capo numero due della distruzione, e gli chiedi di eliminare la proposta di interventi, e il regolamento, se perchè il consigliere del suo inizio, il consigliere di un uomo, e il consigliere del suo inizio, è quello che si vuole fare, la riva di questo. Il lavoro di dei vetti, sulle commissioni consigliari, noi andiamo, e ci invitiamo, se no tranquillamente, abbiamo pensato, ragazzi, abbiamo perso tempo, abbiamo fatto soltanto un tanto di rischioli inutili, e penso di usare, oggi, il rispetto, allora, dire, dove ciò, significa di far partire le commissioni, così come erano tempi. Io adesso lo vorrei spiegare, che bisogna capire se non lo stiamo ragionando, stiamo ragionando, tutte le commissioni, con l'intimità di entri, ognuno di noi entra in una commissione, a paghera, per te lo dire, detto proprio, ma teoricamente, in ogni gruppo, qui presenti, qui abbiamo gruppi, e c'è in italiano una brutta parola, gruppi di una persona, entra nel consiglio locale, le commissioni, e che fanno, come era il meglio regolamento, vanno, e finalmente, a perdere tempo. Perché alle condizioni, così come dice, il meglio regolamento, quello che si può essere di gole, e in realtà, a questo punto, non credo che dopo tre mesi di lavoro, sul regolamento, si dice, no, portiamo in un'altra condizione, del regolamento, perché non c'è già giù, come ha lavorato la conferenza di Capitura, il nostro assurdo, il nostro comune, prevede, che l'unica commissione competente, a pagliare le condizioni del regolamento, è la conferenza di Capitura, quella che abbiamo fatto a 5 minuti, la sua, e che non ha portato, questo punto a niente, a nessun risultato, questo perché, perché ci si vuole, incavolire, su una posizione, di mantenere, le lecce prezente, diciamo che no, ognuno, non vuole, rinunciare, anche a queste cose, perché oggi, facciamo il regolamento, riportiamo la condizione, così come la prima, la condizione, che non è la beneficenza, sugli attività di atto, e quando io volevo, se lo riportate così, io non ho fatto la scuola, invece, in mezzo, e se non dicevo, mi piace la scuola, se non vediamo, la materialità delle cose, riportare, questo regolamento, delle commissioni, perdere, altro tempo, e il frattempo, andare avanti, con le lecce commissioni, il vicendio, che vende, la proposta, che era stata fatta, che era stata portata, in queste persone, stanno intendendo, e così, presidente, del primo partito, di questa città, oggi, che cosa si vuole vedere, si vuole, si usava il presidente, questo si lo fa, si vuole dire, presidente, direttore della paventura, non vi vogliamo più, come presidente, dopo avesse il presidente, dopo avesse il presidente, i prezzi di pubblico, questo si vuole dire, però i prezzi di pubblico, siamo mai tutta la filosofia, che vogliamo, insomma, ma la sostanza è questa, perché, dobbiamo, semplicemente, conservare, quello che è, un regolamento, ormai, da fatto, un regolamento, che non è assolutamente, lì, decolamentile, né con tutti, gli altri regolamenti, comuni, il presidente ha avvenuto, pochi giorni, a una conferenza, dei presidenti, delle varie città, a nord di Dacos, e quando, e quindi, il re di terra, ha raccontato la scelta, il nostro regolamento, gli altri presidenti, dei consigli, degli altri compiti, sono guardate, ma perché, a Cattoria, a Cattoria, ma non è un po' di condizioni, così come sono fatte, ma voi state, proprio, voi ne va da un punto, voi state, pure dalla legge, ma dire, i presidenti partiti, che si è da, con i presidenti, con i suoi, città, guardate, noi stiamo, prevarando, una politica, del regolamento, e a Cattoria, io ce la vedo, vediamo, guardate il internet, c'è il fine, è una di internet, del consiglio comunale, non si trova la quadra, su questo, su questo regolamento, no, non si trova, o niente, da quello che vediamo, la quadra, non c'è, non c'è, la quadra c'è, e dice a me, è la volontà, di inviare questo regolamento, a te colguito, a te colguito, io, onestamente, trovo, che la proposta del consigliere, del consiglio, non c'è minimamente accettabile, l'evitенное che il consiglio, non c'è il sancito, va bene, per lo scherzo, però, il consiglio, non c'è, il consiglio, non c'è il sancito, il consiglio esposito, non c'è assolutamente, il consiglio, e non c'è il sancito, il consiglio, vale le commissioni, e poi, assolutamente il regolamento, che senso ha, perché il regolamento, è un regolatore, so che è il pieno, per fare le commissioni, così come era, che si trova regolamento, Questo non si voglia fare solo le commissioni governanti, non è che si voglia andare avanti. Questo è il senso della proposta. Vi dico per l'atto e facciamo le commissioni consigliose. Che sono? Vagli a quello che ci sono. Uno spreco. Sono uno spreco perché le commissioni non ci sono adesso. E qui va con una storia sputtata per garantire la presenza a tutti quanti gli consigli. Scusate, ma se lo consiglio un malo, a questo tempo il commissione non fa una inutile doppiazza. Noi dobbiamo fare gli altri commissioni, farli approvare quindici membri. O consiglio una, quindiquattro. Si vede solo dovete ripartare. Ma ci sono gli ultimi decimomani? Non lo so. E' l'unico tra i nostri conti. C'è un pochino che fa i commissioni che non abbiamo. Il gestore di presente, la gittimica lavoro e altre cose. E' un'imilità. Invece, la riporta che trovo la cosa da presto. Era questa lì. Le commissioni che non esserano organi negli. Che producano, che siamo partiti. Che ha cinque o sette milioni a riconto della materia e del mondo alla commissione. E abbiamo fatto questa distribuzione delle competenze. Quattro commissioni sulle quattro aree, matro aree di marzo. Territorio, affari generali, bilancio e politico e sociale. E questo dovrebbe essere il piano basso per organizzare tutto il comunicatore. Perché in parte queste quattro commissioni dovrebbero essere organizzati i gestori, i dirigenti, i gestori. Il piano stagliare commissioni, i media di attenzione, i stipendi ai licenzi. Questo è il senso. Stavo dicendo che tutti quattro delle competenze ne capire un po' che cosa fa. No, noi siamo d'accordo sul taglio delle commissioni, sul taglio delle scelte. Noi dobbiamo andare avanti. Queste sono queste parole. Ma poi le parti, concretamente. Dove sta la volontà stagliata? Che non c'è questa decisione di arrivare a delle commissioni che funzionano. Delle commissioni che erano sempre certe. Perché oggi noi le abbiamo approvato. Perché io sono in dispatente. In primo momento in cui ci siamo messi a ragionare su questo regolamento Cioè, noi c'eravamo una cosa da vedere. E poi non avremmo stati consigliata. Voti adottabilità. Voti adottabilità. Voti adottabilità. Voti adottabilità. Ma si è arrivato su tutto potere. Articolo 24. Articolo 25. La partecipazione a queste commissioni. E come io, che assumo la presentazione, il partito non faccio parte a tutte le commissioni. Ma la presentatività, cari signori, e cari signori, il consiglio contatto. Ma com'è la risposta della commissione? Nel momento in cui tu puoi partecipare a una commissione perché l'argomento che si discute interessa. Tu parteci perché è comunque la pura persona. Parteci, i discuti, per il passato di lavoro. Non hai il diritto del voto. Non hai il diritto di percepire il vettore di presenza. Ma gli altri diritti ce l'hai il quattro. Quindi parteci, fai le proposte, i metali. Quella commissione è proposta. Se non passi i tuoi metali. Tu hai la possibilità che non ti consiglio contatto. Come c'hai l'attività che ti ha dato il voto. E te lo posti. Però poi te lo posti il consiglio contatto. Quindi il problema della presentatività, il problema di questi, il problema di questi. Sono problemi che si spenderano. E anche in questi casi semplicemente di partire il rinvento di questi. Che io, orressamente, non avrò. Abbiamo chiesto a questa maggioranza, ma anche a parte dell'opposizione che intendeva portare le rinventure. Fateci capire su quali parti dobbiamo ragionare. Questo avrebbe poi una maggiore efficienza, di ricombinzione, di taglio delle spese. Quindi, diteci, secondo voi quali, altro che non possiamo ritrovare in questo regolamento. Diteci voi maggiore di rinventamento. Premi. Nessuna proposta. Nessun rinventamento. Oggi agli anni. E' stata semplicemente la proposta fatta da Presidente Cusciò. Condivisa dalla parte dell'azionanza, in parte dell'oposizione. Viva io! Comperando il caosso della che stavola ha seguito giù. Adesso io vi faccio una regina. In piena docenza. Passatevi una maggiore per la docenza. Mettetevi davanti allo spese. Chiedetemi. Ma io veramente vi posso capire sopra la partecipazione? Non ci ho fatto il senso. Faccio l'opera da tutti. Sopra la partecipazione alle condizioni e bloccare risposta. Guardate. E' veramente una cosa. In autista. C'è la cittadonista. A dire. Io voglio conservare questo stato fuoco. Se voi vi vedete che il progetto presentato sia un progetto bislatto che sia il ricevente per questo tipo di chiedi, l'italiano, i giuriditi e tutto l'altro. Diteci che cosa non stiamo cambiando. Fateci vedere che cosa è che non vi piace. E non ci dite che invece vede. Ma io non posso partecipare a tutte le commissioni. Io non sono rappresentante di tutte le commissioni. Questo è che parla materia. Parla materia nella terra. Questo regolamento. Io lo ritengo un buon regolamento. Lo ritengo un atto di avanti. Un progresso della nostra città. Una dimensione dei nostri, soprattutto. Lo ritengo veramente un atto che vi fa votare a tutti i nostri così come andiamo votato per insuffare. Dovrebbe essere approvata una limitata. Perché io voglio sentire, per prendere i consiglieri, come esistiti di noi, come i consiglieri che nella prima votazione del regolamento, compreso l'articolo equilibrato, forse non avevano capito un altro bene, vanno a provare la monalità, compreso Cittano e gli altri consiglieri dell'Api. Ma potete che si iniziano a creare un po' di paura. Insomma, ma chi? Se faccio questo regolamento, allora veramente lo vanno a fare le commissioni. Veramente lo vanno a fare le commissioni. Veramente lo vanno a fare il cento di credenza. Veramente lo vanno a giusto più a favore. Ma se lo sapete che si sono cambiati un po' molesti negati. Perdonate che questo intervento ha parlato, ma io ci tengo veramente a questo regolamento. Perdonate che vedrete, i toni di un regolamento, un incostrocardi, un regolamento che finalmente punga un freno agli appunti. Questo è. Questo io. E vorrei che anche dal lato della nazionale, dell'opposizione, si capisse questo intervento. Il secondo fine, quale potrebbe essere? Perdonate il consigliere Polizio. Quello di poter entrare maggioranza o dare il regolamento? Quale potrebbe essere? La maggioranza, tra l'altro, se la contro questo regolamento. Io voglio, semplicemente, in coscienza, votare con una cosa che si via, non soltanto a me, ma anche ai futuri consiglieri. Perdonate, ma anche, perché forse ci saranno tante altre cose da discutere. Però io voglio veramente che il legno si toglie il regolamento che possa rimanere per molto tempo e che possa garantire tutti, tutti veramente. Questo è quello che ho. E voi vorrete che la maggioranza che l'opposizione, facendo l'esame di coscienza, faccia cadere più bene le pericone davanti che abbranti e finalmente, spero, ma non credo, si convinca dell'appontare e della necessità di quest'anno. perché questo è l'unica cosa che posso dire. Guardate, faccio, faccio il consigliere, non c'erano qualcuno, non ha tempo pieno, nel senso che ho un'attività e ho un'attività, ho un'attività. E vi posso dire che la partecipazione alla Commissione, è un bel problema. È un bel problema. Che io, quando non mi presento in vista per fare il caso che io sono un mistero tra di grande avvocato, quando non mi presento in vista, io non guardo. E io è inutile che mi vado a portare il progetto delle cittadine, guarda che io c'erano la domicione, non posso andare con il consigliore, non posso attacchiare a lui. Ovviamente, non va bene. A me, chi vede di benedice, pubblico o privato, però per me si, non ti viene pagato. Queste, allora io dovrei dire, anche sotto il consenso di presente, con sotto il consenso di presente, con sotto il consenso di presente, con sotto il consenso di presentare a tutti, ma qualcuno cosa quella non finisce automotivica, per essere garantito nella presenza e nelle condizioni. Che, poi, la garantia che il consenso significa che io, non ti nieco di partecipare. Se tu vuoi partecipare a una condizione, volontariamente, hai un'occasione di presenza del consenso. La ragionista, però, è veramente uno scuolo benissimo, uno scuolo benissimo, perché sono veramente brutti, sono veramente in una situazione di stando, di stando, perché non c'è nemmeno la limpa del pure di dire, noi noi ci siamo andati sopra e cercavamo la migliazione, di dire, il bello problema quale è la partecipazione, la partecipazione è una partecipazione volontaria, si trovava mille capite, mille scuse, mille... però no, ma adesso non possiamo votare, questo non ci piace, questo non è, questo non lo so, questo non lo so, è un piatto, è un piatto, è un'opensiva che la gente sia consapevole di questo fatto, perché oggi votare contro il regolamento è simile altre cose, quindi non voler tagliare le spese e si riusciano in questo tempo, questo è quello che fa, io lo so, io voglio riuscire a riuscire a riuscire, è onestamente e poi è il presidente del consiglio comunale, non soltanto di maggior partecipazione, io ho finito, grazie. Consiglio, grazie molto.